Seconda fase, spareggi promozione di Lega Pro nel Girone C, Lucani nella Tana dei Lupi. Al San Vito, Gigi Marulla ad affrontarsi Cosenza Matera. Al via il match degli ottavi play-off di terza serie, gli uomini di De Angelis e la troupe di Euteris si affrontano subito a viso aperto, proponendo ritmi incalzanti. E al minuto 22 i Lupi graffiano, Blondet porta i padroni di casa in gol, suo il colpo di testa che supera Tozzo sugli sviluppi di una punizione, il Cosenza in vantaggio. Alla mezz'ora il numero 6 rosso-blu interviene su Sartora in aria, il direttore di gara accorda un calcio di rigore dal dischetto negro che trasforma in rete. La pedina lucana beffa Perina e la manda dentro tra Cosenza e Matera ripristinato l'equilibrio di risultato. E sul pareggio termina la prima frazione di gara, si torna in campo al San Vito Gigi Marulla. Al 58esimo occasione ghiotta per la compagine della città dei Sassi, bolide di armellino ma il pallone a lato. Ma al 70esimo dall'inizio delle competizioni la gioia del gol per i tifosi del Cosenza. Mungo in becca ad Anna sulla sfera arriva Statella che viola lo specchio della porta difesa da Tozzo alla troupe di De Angelis nuovamente in vantaggio. Due minuti dopo nuova tegola bianca-azzurra russo per Casoli che colpisce con una testata ad Anna il Matera in inferiorità numerica. All'ottantesimo nuovo guizzo offensivo di Armellino ma Perina non si fa cogliere in preparato e blocca. Solo un minuto dopo Sartore a botta sicura impegna Perina ma l'estremo difensore rosso-blu para. A pochi istanti dal gong i lupi in dieci uomini, doppia munizione per Pinna che è fuori. Quattro minuti di recupero e al triplice fischio finale da registrare la vittoria per 2-1 del Cosenza contro il Matera.